Benvenuti alla sesta puntata della rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità 2021-2022. Daremo risposta ad alcune domande. La prima domanda che ci è pervenuta è la seguente. Per i passaggi di ruolo della mobilità 2021-2022, qual è l'aliquota dei posti disponibili? Per le emissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2021-2022 viene accantonato il 50% delle disponibilità al termine dei trasferimenti provinciali in prima e seconda fase. Le operazioni di mobilità del personale docente relative invece alla terza fase, sul restante 50%, si realizzano per l'anno scolastico 2021-2022. Per il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale. Il restante 25% invece va alla mobilità professionale, dunque ai passaggi di cattedra e di ruolo. Per fare un esempio, se noi avessimo 16 posti disponibili, per una data classe di concorso, 8 posti verrebbero riservati per le emissioni in ruolo. Degli altri 8 posti, invece accantonati dopo la prima e seconda fase della mobilità, andranno al trasferimento dei passaggi di cattedra e interprovinciali. 4 andranno agli interprovinciali e altri 4 andranno a passaggi di cattedra oppure di ruolo, a secondo la gradatoria di punteggio. La seconda domanda a cui daremo la risposta è Possono essere presentate contemporaneamente domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo? La risposta è sì. Si possono presentare tutte e tre le tipologie di domande, sempre attraverso istanze online, e il passaggio di ruolo può essere richiesto esclusivamente dai docenti che però hanno superato l'anno di prova e hanno l'abilitazione per quella classe di concorso, ma solo per un ordine di scuola. Per cui, per esempio, un titolare alla primaria può chiedere passaggio di ruolo o alla secondaria di primo grado oppure alla secondaria di secondo grado. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento a passaggio di cattedra eventualmente già disposti. La terza domanda a cui daremo risposta è la seguente. Quali docenti sono vincolati a restare nella scuola di attuale titolarità? Tutti i docenti che negli ultimi due anni scolastici sono stati soddisfatti nella domanda di mobilità volontaria su una preferenza puntuale, cioè su una preferenza richiesta di scuola, saranno vincolati per un triennio a rimanere nella scuola in cui sono stati trasferiti, nella scuola di titolarità. I docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020-2021 o immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020-2020 o in deconferenza giuridica ed economica 2019-2020 per adesso sono vincolati per un quinquennio a non poter fare domanda di mobilità. E' anche vero che i sindacati stanno chiedendo la rimozione del vincolo quinquennale per cui potrebbero anche arrivare novità dell'ultima ora. Speriamo che queste risposte a tali domande siano utili per i nostri telespettatori. Continuate a seguirci ogni mercoledì nella rubrica domanda risponde, seguiteci nei nostri social Facebook e soprattutto anche il YouTube, il social YouTube. Arrivederci e alla prossima puntata. Grazie.